. Scontro fra due auto sulla SS 114, Francofonte, tre feriti, grave una donna. Vant create city? Fint free world prestemesa in plugins. . E di tre feriti, di cui una in condizioni molto gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte, per cause ancora da accertare, sulla strada statale 194, all'altezza del chilometri 23, nei pressi di Francofonte, Siracusa. . Lo scontro ha coinvolto due vetture. Ad avere la peggio è stata una donna, che viaggiava con la propria famiglia a bordo di una delle due auto e che, a causa del violento impatto, è stata trasportata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Garibaldi di Catania, dove si trova tuttora ricoverata in stato di coma. . . Meno gravi invece le lesioni riportate dai componenti di una famiglia che occupavano la seconda auto e che hanno riportato traumi giudicati guaribili con venzi giorni di prognosi. Ital Press. . Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps. . . . . .